Il 2021 è stato un anno fondamentale per il mondo delle criptovalute, ma ora dal Fondo Monetario Internazionale arriva un monito. L'FMI sollecita infatti El Salvador a rinunciare alla bitcoin come moneta legale. Il paese centroamericano è stato il primo al mondo a legalizzare nello scorso settembre la valuta come mezzo di pagamento per tutti i beni e i servizi. Tuttavia l'esecutivo del Fondo Monetario nei giorni scorsi ha evidenziato tutti i rischi che si corrono nell'utilizzare il bitcoin. Questi pericoli sono legati a stabilità, integrità finanziarie e protezione dei consumatori, oltre a problemi fiscali. Secondo le normativi in vigore in El Salvador, tutte le imprese che ne hanno le capacità tecnologiche devono accettare ora la criptovaluta come metodo di pagamento. Dopo un periodo di rodaggio problematico, ora pare che i problemi si siano risolti. A puntare sulla bitcoin è stato il presidente Bukele per permettere ai migliaia di salvadoregni che vivono all'estero di evitare le spese di trasferimento quando inviano denaro ai parenti a casa. Un incentivo però, che non piace ancora, a molti commercianti. Non accetto questo metodo di pagamento. Quando mi chiedono quanti soldi ho guadagnato, io preferisco ancora mostrare il rotolo di banconote e dire ecco, questo è quello che ho guadagnato oggi. Mentre le autorità locali per ora non si pronunciano sul monito del Fondo Monetario, il valore del bitcoin si è quasi dimezzato rispetto allo scorso novembre, quando fluttuava oltre i 60.000 dollari.